Ah 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 Attenzione. La sfida che tutti stavate aspettando del Ghiaccione le Palle purtroppo sarà rimandata Ma come moriva? Vi ho detto che usciva oggi ma io mi- Ovviamente grandissima testa di c***o c'è una spiegazione a tutto questo Purtroppo il gameplay che abbiamo registrato era inutilizzabile in quanto troppo pesante Ma non disperate il video del Ghiaccione le Palle sarà riregistrato e l'averte prestissimo Via con la nuova sfida Vai, fai la minchiata Ahahahah Ciao a tutti ragazzi, come rossa fortuna di Jake Smurry e bentornati in un nuovo video di Giochi Ignoranti Mi piace urlare Oggi siamo su... non devi... Compa, ormai sono abituato con tua madre, che urla sempre E questa la tagli? No Questa la tagli? No! Questa la tagli Murli burlone E' finita la serie ragazzi Ahahahah Oggi siamo su... Mol, Hammers e... Chi perde sarà pinzettato dall'altro e se finiamo il posto in faccia... No Ce le ficchiamo in... Quindi, io direi di partire subito su Players One Cup Sei pronto? Via! Dobbiamo praticamente schiacciare la talpa Porca puttana No! Bella Bella Minchia Uh! Ahahahah Non si dicono le parolacce contro Gesù Ahahahah 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 Mammaa Non mi fa vincere Riccardo Ahahahah 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 Grazie Ma sei merdolo Troppo Ahahahah Nooo Non hai capito Minchia Nooo Nooo Non vale Sei bastardo Sei bastardo Non puoi usare l'altro pollice Ma che mica significa? Non posso mettere io a fare così Non vale Ma è l'orecchino Ah 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 Però Mi dispiace GAY GAY Hai l'orecchino a destra GAY Perchè che sei da gay Ahahahah Secondo round Allora facciamo che Ogni 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 rana morta Ci mettevo una pinzetta Ma dov'è la rana? Ogni Talpa Ahahah Ogni rana Ogni tappa che colpisce uno L'altro ti mette la pinzetta Ma se il gioco è velocissimo il tempo che prendiamo la pinzetta è E mi Mi attacchi sempre Ogni perdita ha 10 mollette 5 Ogni sconfitta ha 5 mollette Va bene Ma da adesso Dalla prossima Perchè I fan si arrabbiano Riccardo I tuoi i fan si arrabbiano Dai Però come fai? Sul guanciotto Che piaceva tanto alla schiera Ahahahah Ah 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 No Sul mento Ma non puoi metterlo così Lo devi mettere a No Così fermo Mettitolo da solo cazzo Quante sono? 4 Sono 4 Sono 4 Sono 5 Ah Leimer Se vuoi te la pu... Se vuoi te la pu... Se vuoi te la pu... Se vuoi te la puoi spostare quella Ma non vedo Eh Ho un pene in fronte E non vale usare in quel modo Non vale ok C'è una concentrazione quando perdi la prima partita Ah Madonna Minchia perchè tu ho capito Ops Bosco 2 Eri la ferma Siamo super concentrati ragazzi Infatti Riccardo perde ora Io mi posso salvare solo con i perfect Sì Uh ecco tipo questo Tipo quest'altro Ma stai scherzando Minchia ho poi il dito destro cazzo Non vale Ma che cazzo è sta cosa Sono a 101 zio No frate no dai Passami il dompe qui in mano Uh Eh no Ho vinto di nuovo No frate Minchia questo... Allora ragazzi avete rotto sempre il cazzo che Murray perde sempre No In questo video Serve più Carne Che cazzo fai mi strozi così Facciamo l'ultimo round Quanti minuti è? Quanto deve durare sto video? Sei anni Derico mi ha mandato un messaggio Ahahahahah Riccardo stiamo diventando volgari Oh Ma cazzo Oh Oh Ma che minchia Madonna guarda che cazzo fai pressioni Ma tu fai tutti Perché scende Minchia guarda come ti sto distruggendo zio No 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 frate non è possibile Cosa? Mi stai recuperando Ah E Murray sta per vincere No Faccio i perfect e poi prendo i coniglietti I coniglietti cattivi Perfect No frate io non me la colgo No Sono fortissimo No frate Sono super forte su sto gioco Come mai No No Non me la colgo No No fermo La rivincita di Riccardo Che palla sto gioco di merda L'ho scelto pure io Sono fortissimo Stiamo due round a zero Si compa è l'ultimo round Allora facciamo che chi vince questo vince Chi vince questo vince Tutto Perfect Ma che minchia significa? Ops Sono fortissimo Riccardo Ragazzi c'è un problema con Riccardo No non vale non vale Comunque ho fatto great Minchia sei un po' musca No frate non ci voglio giocare più No no non va Perdo sempre io Non ci voglio giocare più Delle uova ho preso Bello Bello Maria senta ma perché c'è un po' Io ho fatto un po' coniglio Io mi confondo Ti svelo un segreto È fatto di proposito Anche perché ho fatto un altro perfect Gioco Bravo Ora ragazzi C'è lo step finale Ma tu non te la sei beccata molletta Ho capito ma adesso sono troppo forte Ragazzi 9000 mi piace Prossimo episodio Ok Momento 10 mollette Iniziamo Una Costruiamo Come costruire un'anteprima video Che attira la gente Ahahah 2 3 Mamma mi brucia la faccia 3 Mamma dov'è la crema per il culetto Che mi brucia la faccia 8 9 La decima No lo tiro su così Ah Ah 10 Fermo fermo Ok ragazzi Questo video finisce qua Io spero che vi sia piaciuto 10.000 mi piace No io spero che stai rendendoci 9000 mi piace Prossimo Ahahahahahahah Ci vediamo al prossimo episodio Dai però che non si sente l'audio in questo telefono di merda Madonna Dio non farmi quest'ora Mamma mia è proprio psichedelica sta musica Comunque la mamma di quello che ha creato sto gioco Amava le banane